La mister, prima sconfitta, come giudica la partita? Partita, primo tempo abbiamo, come ho detto ai colleghi, primo tempo abbiamo sprecato 4-5 palle goal, secondo tempo diciamo che non c'è stata partita perché loro hanno messo testa, gambe e cuore e alla fine hanno vinto la partita meritatamente. Oggi la mia squadra ha subito un colpo psicologico, vuoi il campo, vuoi la squadra che giocano sempre con palle lunghe è normale che si va in difficoltà, però noi ne abbiamo detto sempre che le squadre sono toste, le squadre sono insidie, abbiamo fatto l'esempio di una squadra del Savoia che ha pareggiato con l'ultimo in classifica, questa è una squadra che comunque ha difficoltà, però è viva e oggi l'ha dimostrato. Quanto è fluido il campo su questa prestazione? Anche perché comunque abbiamo visto che nel secondo tempo la squadra ha avuto difficoltà soprattutto nei passaggi, negli appoggi. Vabbè, il campo è fluido, ma non è un alibi questo, perché questa è una squadra che deve giocare su tutti i campi, questo è un campionato dove si gioca su un campo in alba naturale, sul sintetico e sulla sabbia. È normale che col tasso tecnico che abbiamo noi, su questo campo abbiamo avuto un pochino più di difficoltà, ma non significa che bisogna trovare l'arbi del campo, perché nel primo tempo c'è stata solo una squadra, se finiva 4-5-0 il primo tempo stavamo a raccontare altre cose. Ma voglio sottolineare che comunque voglio fare i complimenti alla squadra avversaria perché ha meritato di vincere. Dottorio Grillo, prima sconfita il campionato dopo tantissime belle prestazioni. Sì, sicuramente arriva in un momento inaspettato, però purtroppo dobbiamo fare un mea culpa oggi e guardare avanti perché è brutto perdere, però nel calcio esiste e dobbiamo fare, come ho detto prima, un mea culpa già da questa sera e alzare la testa e cominciare a preparare la partita di domenica. Quanto è influito il campo su questa sconfitta, dato che nel secondo tempo abbiamo visto la squadra soffrire moltissimo? Beh, il primo tempo penso che in partita non ci sia stata, è l'atteggiamento quello che conta, non è il terreno, non è un alibi, non ci deve essere un alibi. Il terreno come lo è per noi in terra era anche per l'avversario, quindi abbiamo fatto un Arachiri e qualche colpa l'abbiamo ed è grande anche. Come ho detto prima, non è un dramma, però bisogna un attimo non dare più magari certe cose che davamo per scontato e rialzare la testa e cominciare ad avere la stessa fame che avevamo già mercoledì scorso in Coppa Italia. Mister Martino, una vittoria è meritata contro un avversario molto ostico. Sì, diciamo che sembra strano, abbiamo raccolto i tre punti contro la prima in classifica e sembra strano perché meritavamo molto prima questa vittoria come contro la Palmese, la prima a Castel San Giorgio, a piccola, con la battivagliese. Parlavamo sempre di una clanese che era stata sfortunata, poco attenta, io non credo la sfortuna, credo più un po' di pizzico di esperienza, di cattiveria in più perché in questa categoria nulla è scontato. Poi dopo ci sono partite come oggi con una difesa da inventare, il secondo tempo un attaccante ha fatto il terzino, però questa clanese ha la potenzialità per battere chiunque e può perdere con chiunque come ha dimostrato. È una squadra che secondo me fino ad ora ha raccolto molto di meno ma lo dicono gli avversari e lo diciamo noi, siamo usciti sempre con gli applausi. Domenica a Sorrento penso che solo il gol c'è stata differenza, anzi abbiamo tenuto la palla per 70 minuti nel campo del Sorrento e sicuramente le ambizioni di inizio a noi erano diverse. Ecco, 30 minuti di dominio agropolese, poi la sua squadra è scusa fuori e anche i campi nel primo tempo hanno fatto molta differenza, anche il Giovanni della Valle abbiamo visto che ha giocato una egregia partita. Dominio no, io penso che stavamo soffrendo le distanze perché l'Agropoli è una squadra in forma, una squadra che ha delle qualità, una squadra che giustamente è prima perché non a caso si fanno 23 gol, perché non a caso si vincono partite del genere. Ci sta a soffrire contro avversari anche l'uno contro uno, non è che avessimo concesso chissà cosa, però come dici tu c'era un piccolo predominio dell'Agropoli, poi siamo usciti fuori, secondo me nel finale del primo tempo già meritavamo, secondo me, il pareggio con quel tiro ribattuto, al secondo tempo quelli che sono entrati, non sono entrati per demerito perché io penso che Coppola, il 2, stava facendo una bellissima partita, soltanto che a quel punto io sono sempre stato un po' così un allenatore e ho pensato che era inutile stare lì a cercare l'episodio, ma ci siamo buttati avanti, ho cercato di giocare con tre under dietro, alla fine se i giocatori sono bravi possono essere anche giovani, bisogna avere solo il coraggio e poi il coraggio premia chi ci crede, chi ha più volontà, chi butta il cuore oltre l'ostacolo e siamo stati i più cattivi dell'Agropoli che secondo me oggi forse ha solo demeritato, secondo me sul lato agonistico perché sul lato agonistico oggi c'era una clanese che non voleva perdere la partita, alla fine l'ha vinta perché l'Agropoli ha grandissime qualità, l'eclanese è stata brava a sfruttare le proprie qualità, a sfruttare l'Agropoli che non è stato così cinico come sempre, più cattivo come sempre.